Buon pomeriggio, io sono Nicolina Alessandra e vi do il benvenuto a questo webinar nel quale vedremo insieme e vi presenterò la nuova funzionalità presente in Namiria Artermo 6.1 che è il nostro assistente virtuale Diana e successivamente vedremo invece come utilizzare il modulo interventi migliorativi presente all'interno del programma Termo che ci aiuta e ci permette di calcolare gli interventi migliorativi per un'APE, per un testato di prestazione energetica o per una diagnosi energetica con le due modalità che mette a disposizione il software, la modalità standard e la modalità avanzata. Prima di cominciare il webinar volevo darvi un'informazione di servizio. Qualora aveste dei problemi di video o di audio durante la presentazione del webinar potete scrivere in chat, i miei colleghi cercheranno di risolvere le vostre problematiche e allo stesso modo se avete voglia, necessità di fare delle domande inerenti l'argomento del webinar, potete porle in chat e vi verrà risposto sempre dai miei colleghi e poi magari alla fine della presentazione ne sceglierò due o tre alle quali risponderò personalmente in diretta. Quindi direi di, dopo queste informazioni di servizio, direi di partire con la presentazione del webinar tolgo la videocamera e vi faccio vedere, vi mostro il mio desktop, lo dovreste vedere e ancora dovreste vedere me in basso a sinistra e andiamo subito a presentare il nuovo bot Diana. Per questo webinar intanto ho preparato un file che vedete già qui aperto, è un edificio unifamiliare il cui involucro è di media qualità, il generatore presente è una caldaia standard a metano e la classe energetica partiamo da una classe G, quindi abbastanza scarsa come classe. Prima di fare questo, quindi questo è il file che ho preparato per poi studiare gli interventi migliorativi, andiamo a vedere l'assistente virtuale. Per accedere all'assistente virtuale di Namirial presente all'interno di Termo, basta cliccare sul pulsante assistente virtuale. Si aprirà sulla vostra destra la chat di Diana. Allo stesso modo per chiudere l'assistente virtuale basterà semplicemente andare a ricliccare sull'apposito pulsante. Appena andiamo ad aprire l'assistente virtuale Diana vedete già qui un flusso conversazionale di default. Quindi le modalità per utilizzare il bot sono due. O seguire questo flusso di conversazione, nel quale trovate già magari dei quesiti, delle domande. Per esempio, non so, ho necessità di interpellare il bot perché voglio un'assistenza su un'ape. Quindi seguendo il flusso conversazionale, clicco sul primo pulsante vorrei assistenza su un'ape. Diana elabora la richiesta e mi rimanda ad altre informazioni chiedendomi nello specifico quali informazioni mi servono per compilare il mio ape. Per esempio, io non riesco ad abilitare il CAD, perché magari lavoro ancora in modalità di abbellare, ma voglio lavorare in modalità CAD. Il primo suggerimento che Diana mi dà è appunto il pulsante nel quale mi viene spiegato dove trovare e dove poter abilitare il CAD. Quindi basterà semplicemente cliccare sul pulsante e questa operazione mi rimanda alla pagina del nostro Service Desk nel quale troverò la spiegazione di come poter abilitare il CAD su Termo. Questo è un metodo per utilizzare Diana, quindi seguire il flusso conversazionale. Altrimenti potrei andare direttamente ad interagire scrivendo un messaggio sulla barra sotto, vedete. Scrivi qui il tuo messaggio. Per esempio, io magari voglio vedere un tutorial di Termo e pongo la mia domanda, il mio quesito. Vorrei vedere un tutorial. Invio. Diana elabora la domanda e mi dice che per visualizzare alcuni tutorial basta semplicemente che clicco sul pulsante sottostante. Tutorial. Ovviamente mi risponde chiedendomi che tipo di tutorial voglio vedere. Per esempio, voglio delle informazioni sul nuovo CAD presente nella versione 6. Quindi basterà semplicemente cliccare sull'apposito pulsante e di nuovo si aprirà la pagina del nostro guide nella quale trovate il tutorial specifico per la nuova versione del CAD. Quindi le modalità di interazione con Diana sono due. O seguendo il flusso conversazionale oppure andando a digitare direttamente il mio quesito. Qualora magari avessi problemi di caricamento di pagine, che non visualizzo bene le informazioni, basta semplicemente ricaricare la pagina. Quindi diciamo come se fosse il tasto F5. E invece se voglio eliminare tutti i dati della mia navigazione basta semplicemente cliccare su elimina dati di navigazione. Quindi tutte le formazioni inserite, tutte le formazioni che Diana ha già elaborato vengono cancellate e andiamo a ripartire dal nostro flusso conversazionale di partenza. Allora c'è da dire che ancora chiaramente Diana non può rispondere a tutte le domande. Quindi magari vi potrebbe capitare di porre un quesito che il bot non riesce ad elaborare perché non ha una risposta. Però diciamo che l'uso continuo permette al bot di imparare nuove cose, di istruirsi e quindi magari oggi io pongo una domanda alla quale Diana non riesce a rispondere però magari prossimamente, nei prossimi giorni, ponendo lo stesso quesito è molto probabile che Diana si sia istruita e quindi possa rispondere al vostro quesito. Quindi diciamo che questo assistente virtuale è un bot interattivo che chiaramente permette di accedere alle informazioni presenti, a tutta la nostra documentazione, alle informazioni presenti sul guide, ai tutorial, alle facca, alle guide in maniera molto molto più rapida perché si trova già all'interno del programma. Per chiudere l'assistente virtuale basta come vi dicevo cliccare sul pulsante assistente virtuale e la chat sparisce. Bene, dopo aver visto diciamo come funziona il bot, molto semplice, andiamo a analizzare l'argomento proprio del webinar che sono gli interventi migliorativi. Quindi io farei una cosa, adesso per vedere lo schermo e per vedere meglio tutto il software vi toglierei la webcam sotto dove ci sono io, così potete vedere direttamente a piena pagina il programma e andiamo a vedere come poter analizzare gli interventi migliorativi all'interno di Termo. Per prima cosa, chiaramente gli interventi migliorativi vengono eseguiti una volta che io ho terminato il mio calcolo, quindi ho una classe di partenza e un'epiglobale non rinnovabile di partenza. Per accedere al modulo interventi migliorativi è sufficiente cliccare sul polsante interventi migliorativi e il software già subito mi chiede che tipo di modalità voglio utilizzare, se gli scenari standard oppure la modalità avanzata. Che cosa sono, a cosa serve chiaramente il modulo interventi migliorativi? Il modulo interventi migliorativi consente appunto di determinare le prestazioni che si possono ottenere a seguito di uno o più interventi di miglioramento dell'efficienza energetica di partenza del nostro calcolo. Nello stesso modo la procedura calcola quindi la classe raggiunta, raggiungibile, e anche chiaramente il tempo di ritorno dell'investimento. Come vi avevo già detto in precedenza, il programma ha due modalità per il calcolo degli interventi migliorativi. La modalità classica, che è quella che potete scegliere cliccando su se definisce i scenari, e la modalità avanzata. La modalità classica, che è quella standard, consente di indicare un intervento migliorativo in maniera semplificata, come vedremo scegliendo all'interno di un set di possibili tipologie di intervento, e lavorando sempre nello stesso file. La modalità avanzata invece consente di effettuare un qualsiasi tipo di intervento, anche lavorando su un altro file appunto, che viene appositamente creato, identico al file originale. Ma poi questo lo vedremo nella pratica successivamente. Perché è molto importante la distinzione tra la modalità avanzata e la modalità dei scenari? Per esempio, vi ricordo che, per esempio, per il calcolo con il motore Cened, quindi per redigere attestati in Regione Lombardia, l'unica modalità ammessa è la modalità avanzata. Quindi in quel caso lì dovreste comunque utilizzare la modalità avanzata, perché è l'unica opzione possibile e disponibile. Ma andiamo a vedere la prima modalità, che è la modalità classica. Quindi la modalità classica degli interventi migliorativi, come vi dicevo, può essere attivata cliccando sul tasto Definisci scenari. Si apre una nuova pagina, che è proprio quella degli interventi migliorativi, nella quale troviamo una struttura ad albero, che è così organizzata. Abbiamo i dati generali, nel quale è possibile inserire i parametri economici di base, che sono, ad esempio, il tasso di inflazione, che rappresenta il valore dell'inflazione previsto negli anni successivi all'intervento, il tasso di interesse, ovvero il tasso di attualizzazione, che consente poi la determinazione dei flussi di cassa e quindi del valore attuale netto. La percentuale di sfrido, che permette di tener conto del quantitativo di materiale in eccesso, è il costo dell'energia elettrica, che dobbiamo inserire, come gli altri dati, noi, che è necessario, chiaramente, per il calcolo degli interventi migliorativi, a differenza degli altri tassi. Quindi, prendiamo la nostra bolletta e andiamo a vedere quant'è il costo dell'energia elettrica, il costo a kilowattora. Andiamo ad inserire un costo, per esempio 0,42 centesimi. Successivamente troviamo la voce scenari. Che cos'è uno scenario? Uno scenario è un insieme di interventi migliorativi e quindi possiamo definire anche diverse ipotesi di intervento, quindi diversi scenari, possiamo andarne a creare quanti ne vogliamo, ogni scenario può contenere uno o più interventi migliorativi. Per creare un nuovo scenario, dobbiamo cliccare con il tasto destro sulla cartella Scenario e andiamo, per esempio, a nominarlo Scenario 1. Una volta creato lo scenario, ho la possibilità di inserire un nuovo intervento migliorativo. Quindi, selezionando il pulsante nuovo intervento migliorativo, è possibile inserire uno o più interventi migliorativi. Quindi, per prima cosa, bisogna andare a scegliere la tipologia a cui esso appartiene. Gli interventi sono suddivisi in, come vedete, interventi sull'involucro, quindi tutti quegli interventi che riguardano le componenti opache o trasparenti dell'involucro di inizio, quindi le pareti esterne, le pareti verso locali non riscaldati, i pavimenti, le coperture. Poi ci sono i tipi di intervento sull'impianto, che riguardano il funzionamento degli impianti. Ad esempio, possono essere la sostituzione del generatore di calore, oppure la modifica del sistema di distribuzione primaria, del sistema di distribuzione dell'utenza, oppure della sostituzione del sistema di emissione. E poi, infine, gli interventi che riguardano le fonti rinnovabili, quindi l'installazione di un impianto solare termico e l'installazione di un fotovoltaico. Una volta che siamo andati a capire qual è il tipo di intervento che vogliamo analizzare, basta semplicemente con un doppio clic selezionare il tipo di intervento migliorativo. Ipotizziamo che vogliamo vedere e analizzare un intervento migliorativo di coibentazione delle pareti esterne, delle strutture verticali opache rivolte verso l'esterno. Andiamo a dare un nome al nostro intervento migliorativo e vedete che abbiamo creato il primo intervento, che è quello di coibentazione delle strutture opache e verticali rivolte verso l'esterno e andiamo a inserire i dati che ci vengono richiesti. Quindi il costo dell'intervento, che quindi permette di definire la spesa relativa all'esecuzione dell'intervento stesso. Quindi o andiamo direttamente ad inserire il costo totale se lo conosciamo oppure possiamo andare attraverso l'utilizzo della calcolatrice a stimare la superficie che è oggetto dell'intervento. Però vedete che adesso, non avendo ancora inserito alcuna struttura esterna, chiaramente il software non ha la possibilità subito di calcolare la superficie dell'intervento. E quindi adesso momentaneamente clicchiamo su No e andiamo ad inserire il costo totale manualmente. Ipotizziamo un costo di 10.000 euro. Abbiamo la possibilità, sempre cliccando sulla calcolatrice, di andare a inserire l'eventuale detrazione inserendo un'aliquota. E poi ci manca da inserire il numero di anni, il tempo di ritorno. Confermiamo le modifiche e adesso siamo pronti ad andare ad importare la struttura che vogliamo andare a coibentare. Quindi cliccando su Importa struttura, Termo mi apre una finestra dove io vedo già le pareti esterne che ho utilizzato nel file di partenza. C'era solo una parete esterna, quindi chiaramente qui nella finestra delle importazioni parete vedrò soltanto questa. Con un doppio clic me la vado ad importare e il software mi importa la parete così come è stata creata nel file di partenza, nel file originale. Cosa devo fare io? Adesso qui questa parete va coibentata. Quindi vado a modificare la stratigrafia di questa parete. Vado a inserire per esempio uno strato di isolante per definire il mio cappotto. Allora, per esempio, vado a recuperarlo all'interno, in questo caso, del mio archivio utente. Voglio mettere una stiferite. Possiamo mettere questa qui. Con un doppio clic me lo importo. E vedete che mi importa quindi lo strato di isolante, già con lo spessore, perché sull'archivio era già con lo spessore. E poi vado ad aggiungere il intonaco. Quindi metto in questo caso una malta di calcio o di calcio a cemento, andando ad indicare lo spessore. Quindi adesso io ho ottenuto, con l'inserimento dello strato di isolante, la mia parete coibentata. E questo è il primo tipo di intervento. Vi volevo far vedere una cosa. Visto che già adesso abbiamo inserito la struttura, ritorniamo un attimo sull'intervento migliorativo e vi voglio far vedere, vedete qui, adesso cliccando su costo, sulla calcolatrice avendo la possibilità, quindi avendo potuto calcolare in seguito all'inserimento della struttura la superficie oggetto di intervento posso eventualmente andare a mettere il costo al metro quadro se conosco il costo al metro quadro, chiaramente e lui si calcolerà il costo totale dell'intervento. Questo è un tipo di intervento che io sono andata già a creare. Se per esempio volessi andare all'interno dello stesso scenario a adanizzare un altro intervento migliorativo che significa che quindi quando poi avrò il risultato totale avrò, come vedremo, i risultati per singolo intervento e poi un risultato cumulativo che non è altro che il risultato considerando i due interventi migliorativi contemporaneamente. In questo caso, per esempio, io oltre al cappotto voglio andare a sostituire gli infissi quindi ritorno sul mio scenario 1 clicco con il tasto destro e faccio crea intervento migliorativo vado a scegliere il tipo di intervento migliorativo in questo caso quindi è una sostituzione delle chiusure trasparenti gli do il nome, quindi sostituzione infissi anche in questo caso vado ad inserire il costo l'aliquota della detrazione e il tempo di ritorno allo stesso modo ora avendo impostato le informazioni economiche posso andare ad importarmi la struttura dal file di partenza e anche in questo caso, vedete, mi compariono già all'interno della finestra di importazione finestre, scusate il gioco di parole tutti gli infissi che sono stati utilizzati nel file quindi semplicemente io con un doppio clic me li vado ad importare tutti adesso questa magari è un po' lunga come procedura questa per farvi vedere adesso magari non li inserisco tutti una volta che io ho inserito tutti gli infissi che voglio andare a sostituire chiaramente non faccio altro che andare a modificare le caratteristiche della finestra o per esempio posso mettere non so che ho già i dati forniti dal produttore quindi basta cliccare su dati forniti dal produttore e andare a modificare la trasmittanza già finale oppure posso fare altre modifiche per esempio posso cambiare la struttura del vetro magari non so, avevo un vetro singolo voglio mettere un vetro doppio, un vetro triplo clicco qui sull'importazione sul pulsante di importavetrata vado a scegliere la vetrata dall'archivio per esempio oppure voglio andare a modificare la trasmittanza del telaio la trasmittanza del distanziatore basterà semplicemente andare a modificare questi valori allora adesso io per velocità magari inserisco già i dati forniti dal produttore e mettiamo una nuova trasmittanza complessiva che già conosco magari da scheda tecnica e questo ovviamente è una modifica che devo fare per tutti gli infissi che sono andata a riportare nell'intervento e che voglio andare effettivamente a modificare abbiamo quasi fatto, manca l'ultimo ecco diciamo che adesso voglio analizzare questo unico scenario composto da questi due interventi quindi a questo punto una volta che ho fatto le modifiche vado a fare il calcolo degli interventi migliorativi quindi calcola ovviamente qui ho la possibilità soltanto di scegliere lo scenario 1 vedete sopra questi sono i risultati del file di partenza quindi l'epiglobale di 279 kWh al metro quadro anno della classe G successivamente il risultato mi dice che il calcolo è stato effettuato con successo ho il analizzo chiaramente lo scenario 1 perché intanto ho inserito solo questo qui e qui vedo nella tabella sottostante i risultati per ogni singolo intervento migliorativo quindi K8 per esempio con la coibentazione delle pareti riesco ad ottenere un epiglobale di 197 kWh al metro quadro anno a raggiungere una classe F mi viene calcolata anche la CO2 prodotta e il tempo di ritorno chiaramente calcolato in base ai dati e ai costi che ho inserito io sotto vedete l'altro tipo di intervento che è la sostituzione degli infissi che diciamo in questo caso non è un intervento molto insomma che apporta molti miglioramenti perché vedete si passa da un ep di 279 a un ep di 257 mantenendo sempre la stessa classe e poi infine abbiamo la prestazione raggiungibile quindi il risultato quindi la prestazione raggiunta considerando entrambi gli interventi insieme quindi alla fine il nostro scenario apporterà un miglioramento di classe di una classe e un miglioramento di ep perché si passerà da un valore di 279 kWh al metro quadro anno a un valore di ep globale di 176,25 kWh al metro quadro anno come è stato possibile andare a calcolare questi risultati? avete visto che abbiamo inserito nei dati generali il costo dell'energia elettrica ma questo non è l'unico costo che dobbiamo andare ad inserire ma dobbiamo andare ad inserire anche nel nostro caso in esame il costo dell'altro combustibile utilizzato che era il metano perché noi avevamo nel file di partenza abbiamo una caldaia a condensazione a metano quindi devo andare ad impostare anche il costo del combustibile in questo caso metano quindi vado su archivi di base combustibili vado su documento corrente metano e vado ad inserire il costo del combustibile metano chiaramente adesso in questo file era già inserito il costo però diciamo in un file nuovo ovviamente quando vado a fare il calcolo qui degli interventi migliorativi dopo che l'ho impostato il software mi dice guarda devi inserire anche il costo dell'altro combustibile allora a questo punto si va sugli archivi di base combustibili documento corrente metano o gas naturale simulato e si va ad inserire il costo chiaramente avendo inserito sia il costo dell'energia elettrica che il costo del metano è possibile andare a calcolare il tempo di ritorno quindi abbiamo detto che per ogni scenario e questo lo vedremo anche dopo per ogni scenario viene calcolato il risultato di ogni singolo intervento l'epidobar è raggiunto la classe raggiunta e la CO2 prodotta a seguito dell'intervento l'ultima colonna chiaramente è quella del tempo di ritorno se andiamo a cliccare su visualizza piano economico possiamo andare a visualizzare e ad analizzare il risultato di tutti i dati economici relativi all'intervento selezionato o in questo caso allo scenario quindi per ogni anno vengono indicati i dati relativi al risparmio del combustibile alla detrazione chiaramente se presente ai flussi di cassa al valore al flusso di cassa cumulativo e il flusso di cassa attualizzato quindi l'anno in corrispondenza del quale se voi vedete bene adesso mi sposto qua questa è la prestazione raggiungibile l'anno in corrispondenza del quale si ha il rientro dell'investimento quindi in tempo di ritorno 6 anni viene visualizzato appunto con questa riga verde cioè quando il flusso di cassa cumulativo non è più in negativo ok e questo diciamo che è il primo scenario analizzato come vi dicevo ho la possibilità però di andare a analizzare anche un altro scenario quindi molto semplicemente vado a sulla cartella scenari quindi creo un nuovo scenario lo chiamerò scenario 2 e vado ad importare un altro intervento migliorativo per esempio in questo caso voglio installare un solare termico quindi vado ad inserire l'intervento anche qui mi chiede la parte che riguarda i costi quindi il costo dell'intervento la detrazione se voglio calcolarla oppure se non ci sono detrazioni non serve inserire nulla il tempo di ritorno e in questo caso quando faccio un intervento che riguarda un l'impianto mi richiede di importare la centrale termica presente nel file di partenza ovviamente intendiamo centrale termica non i generatori ovviamente la centrale termica quindi in realtà i servizi presenti nel file quindi riscaldamento e l'acqua cala sanitaria con un doppio clic la importo e adesso questo punto non è finita qui perché ovviamente per andare ad analizzare l'intervento dell'installazione di un solare devo andare ad inserire effettivamente un pannello solare quindi clicco con il tasto destro crea generatore solare termico mi chiederà sempre poi l'inserimento adesso questo del solare termico e come avviene nel file nel file normale insomma che utilizzate sempre che fate sempre quindi il tipo di intervento se fa riscaldamento acqua cala sanitaria e chiaramente i dati tecnici quindi andiamo ad inserire le informazioni la superficie captante volendogli la potenza degli ausiliari faccio calcolo e vedete continuo a vedere sempre i risultati con il cappotto e la sostituzione ma perché io adesso ho analizzato lo scenario 2 per vedere i risultati dello scenario 2 basta che vado su scenario sul menu a tendina e vado a selezionare lo scenario di cui voglio vedere i risultati quindi scenario 2 e vedo quindi i risultati raggiunti con l'installazione di un solare termico che chiaramente si va ad aggiungere ovviamente alla caldaia presente e ottengo anche qui l'EPI raggiunto la classe raggiunta la CO2 prodotta dell'intervento e il tempo di ritorno ovviamente in questo caso essendo un unico intervento migliorativo all'interno dello stesso scenario ovviamente la prestazione raggiungibile è uguale alla prestazione del singolo intervento quindi molto importante è quando andiamo ad aggiungere più di uno scenario chiaramente andare poi a scegliere quale scenario voglio vedere voglio vedere i risultati perché altrimenti vi farà vedere sempre solo appena fatto il calcolo il risultato del primo scenario molto velocemente una cosa che vi volevo dire chiaramente adesso noi abbiamo fatto un intervento su un unico subalterno su un file in cui c'era un unico subalterno nel momento in cui magari avessi un edificio con più subalterni che contiene più subalterni per esempio quando io vado a fare un tipo di intervento e vado ad importare un intervento migliorativo il software mi chiede su quale subalterno lo voglio fare e quindi devo andare a scegliere e a selezionare su quale subalterno effettivamente voglio effettuare quell'intervento migliorativo se su tutti chiaramente basta cliccare su intero edificio una volta calcolati entrambi gli scenari devo andare ad inserirli all'interno del file di partenza quindi esco dalla modalità interventi migliorativi vado su stampa stampa attestato di prestazione energetica raccomandazioni e clicco su importa interventi migliorativi mi viene chiesto di scegliere quale scenario voglio inserire e in automatico vengono riportati i risultati che io ho ottenuto nello scenario 1 calcolato negli interventi migliorativi qualora volessi andare ad inserirli o ad inserire un nuovo intervento migliorativo e crearne lo in autonomia senza il modo basta che clicco su inserisci nuovo intervento migliorativo e vado a compilare quello che mi viene richiesto quindi scelgo il codice dell'intervento e poi vado a riportare manualmente la classe raggiunta l'epiclobale e chiaramente il tempo di ritorno ovviamente se lo creo se lo inserisco manualmente il tempo di ritorno me lo devo calcolare in un'altra maniera chiaramente applica e quindi adesso all'interno del file di partenza io ho importato anche i risultati che ho calcolato con gli interventi migliorativi avessi voluto chiaramente inserire l'altro scenario una volta che vado ad importare dovevo andare a scegliere scenario 2 bene questa è la modalità classica degli interventi migliorativi adesso vediamo la modalità avanzata per attivare la modalità avanzata basta cliccare su interventi migliorativi e cliccare su appunto modalità avanzata questa modalità è attiva quando è fleggata vedete qui questo flag e questi diciamo sono gli step che dobbiamo eseguire per utilizzare questo tipo di modalità quindi diciamo che in questa modalità si devono preparare tanti file quante sono le raccomandazioni che vogliamo analizzare e più un file che riguarderà invece la prestazione cumulativa quindi la raccomandazione cumulativa per prima cosa occorre definire i costi dei vettori energetici e le percentuali dei tassi di inflazione e del tasso di interesse come vedete come vedete qui i vettori energetici possono essere inseriti eventualmente cliccando su inserisci vettore energetico specificando la tipologia la descrizione l'unità di misura e il costo la descrizione e l'unità di misura sono bloccati in realtà mentre sono sbloccati soltanto per la tipologia altro nella quale posso inserirlo mentre per tutti gli altri vettori la descrizione non è specificabile e l'unità di misura è già chiaramente quella prefissata per creare una nuova raccomandazione posso cliccare su crea nuova raccomandazione per prima cosa invece vi volevo dire visto che stiamo lavorando adesso sullo stesso file per andare ad eliminare le raccomandazioni che ho inserito in precedenza nell'anteprima di stampa basta cliccare su elimina raccomandazioni in questo modo verranno cancellate le raccomandazioni da tutte le certificazioni per creare una nuova raccomandazione basta cliccare su crea nuova raccomandazione prima mi richiede di salvare il file in questo modo in questo modo mi viene creata un nuovo file il cui nome è identico a quello del file di partenza con l'aggiunta della sigla im1 questo file è identico al file originario e proprio su questo file andò ad applicare gli interventi migliorativi agendo proprio sul menu ad albero a sinistra quindi io vorrei inserire come intervento migliorativo l'installazione di un pannello fotovoltaico quindi vado a creare la centrale elettrica e ad inserire di conseguenza il generatore fotovoltaico specificandone la superficie captante il tipo di pannello la sua inclinazione e il suo orientamento come sempre una volta creato il generatore fotovoltaico questo va associato alla centrale termica in questo modo e anche alla zona termica calcolo e ottengo il risultato una volta che ho inserito il pannello fotovoltaico ovviamente vedete che non abbiamo migliorato veramente di pochissimo l'epiglobale in quanto chiaramente siamo andati ad inserire un fotovoltaico associato a una centrale termica che contiene un generatore a metano quindi diciamo che in questo caso non è un intervento consigliabile ovviamente però siccome ho intenzione poi di andare a analizzare un tipo di intervento di sostituzione del generatore con una pompa di calore elettrica allora magari l'inserimento di un fotovoltaico ha senso in prospettiva dell'altro intervento che andrò ad analizzare questo è il primo file denominato IM1 per caricarlo sul file di partenza torno sul file originale e clicco su carica raccomandazioni da file mi viene chiesto di selezionare qual è il file che voglio caricare quindi io andrò a caricare IM1 e adesso mi si apre la schermata di importazione della raccomandazione dove andrò a specificare che il codice e la descrizione del tipo di intervento i vettori energetici chiaramente sono già inseriti di default andrò ad inserire il costo e eventualmente l'eventuale aliquota delle detrazioni o il tempo di ritorno questi campi volendo si possono anche lasciare non compilati quel calcolo viene comunque eseguito a questo punto vedete sotto che c'è anche una voce a criterio di ripartizione del costo non è questo il caso però se l'edificio fosse composto da più unità immobiliari o comunque prevede da più certificazioni energetiche bisogna specificare come si vuole ripartire il costo fra le varie unità immobiliari quindi possiamo scegliere la ripartizione per superficie utile quindi il costo viene ripartito in base alla superficie utile dell'unità immobiliare rispetto a quella totale dell'edificio oppure per volume lordo riscaldato quindi il costo in questo caso viene ripartito in base al volume lordo riscaldato dell'unità immobiliare rispetto a quella totale dell'edificio per unità immobiliare quindi il costo viene ripartito equamente fra le unità immobiliari oppure l'inserimento manuale nel quale il costo deve essere inserito manualmente per ogni unità immobiliare oggetto di certificazione nel nostro caso adesso c'è solo un'unità immobiliare quindi questa scelta non ha importanza possiamo lasciare bellissimo questa di default sotto vedete riportati quindi il costo dell'intervento e la detrazione e il tempo di ritorno che non viene calcolato in quanto chiaramente come abbiamo detto prima questo è un intervento che non verrà mai ammortizzato cioè il costo dell'intervento verrà ammortizzato dopo tantissimi anni perché in realtà il risparmio che noi otteniamo associando un fotovoltaico a una centrale con un generatore a metano è minimo e quindi di conseguenza la spesa che io ho effettuato per l'intervento non verrà sicuramente recuperata in poco tempo cliccando su ok vedo che se vado su attestato di prestazione energetica già ho la prima raccomandazione inserita con il suo codice REN6 abbiamo detto che voglio adesso analizzare un altro intervento migliorativo che è quello di sostituzione del generatore vado quindi a creare una nuova raccomandazione mi chiede sempre di salvare il file giustamente questa nuova raccomandazione si chiamerà IM2 quindi mi crea un'altra un altro file identico nel quale vado a cambiare e a sostituire il generatore mettendo una perché voglio mettere una sostituire questo generatore con una pompa di calore intanto la vado a inserire lo prendo adesso per comodità dall'archivio inseriamo questa per esempio ovviamente mi dovrà fare solo riscaldamento e acqua calda sanitaria vado questo a rimuovere il generatore ho modificato il mio generatore modifico anche l'accumulo magari dico che fa sia riscaldamento che acqua calda sanitaria l'accumulo faccio il calcolo e questo è il risultato l'epiglobale ottenuto e la classe ottenuta sostituendo il generatore a metano con una pompa di calore salvo il file per importarlo come prima rientro sul file originale carica raccomandazioni da file e vado ad importare im2 apri come al solito mi viene chiesto di inserire il codice in questo caso un intervento su una climatizzazione su un impianto di climatizzazione invernale il costo l'eventuale detrazione come diciamo prima gli anni e vedete che si calcola il tempo di ritorno che è 18 anni ok vado a visualizzare per vedere se me l'ha correttamente importato raccomandazioni e vedo che mi ha importato anche l'intervento di sostituzione del generatore adesso mi manca da fare l'ultimo passaggio inserire la prestazione cumulativa quindi devo andare a creare una nuova raccomandazione denominata im3 se volete per cumulità potete mettere anche cumulativa nella quale andiamo sia a inserire il generatore precedente quindi la pompa di calore andando a fare le modifiche che avevamo fatto prima quindi eliminiamo la caldaia l'accumulo lo mettiamo per riscaldamento a calda sanitaria e andiamo a a creare la centrale elettrica come prima quindi dobbiamo in questo file che rappresenta la prestazione cumulativa riunificare tutti gli interventi migliorativi analizzati separatamente ok allora mi pare che abbiamo messo 8 metri quadri 15 45 l'associo mi raccomando sempre alla centrale termica e alla zona termica in questo caso anche molto importante sicuramente è associarlo alla non me l'ha preso alla centrale termica e faccio calcola questa è la prestazione raggiungibile che io ottengo con i due interventi migliorativi insieme quindi un epiglobale di 181 a fronte di una classe F salvo il file torno sul file originario vado su interventi migliorativi carica raccomandazioni da file vado a selezionare la raccomandazione cumulativa denominata IM3 e adesso nella finestra di importazione delle raccomandazioni clicco su intervento migliorativo cumulativo metto il costo cumulativo mi pare mettiamo 16.000 euro ipoteticamente mettiamo l'aliquota in 10 anni e vedete che ottengo un tempo di ritorno di 15 anni ovviamente non c'è più l'obbligo di restare sotto i 10 anni ma adesso ipoteticamente non guardate tanto i risultati ma guardate più che altro la procedura che ho svolto per utilizzare la modalità avanzata clicco su ok se vado a fare visualizzazione e raccomandazioni vedo gli interventi migliorativi che ho analizzato e la prestazione energetica raggiungibile con la modalità avanzata quindi vedete che il fotovoltaico con la pompa di calore sicuramente ha un suo contributo chiaramente al contrario dell'essere associato ad un generatore a metano a questo punto basterà andare a vedere sulla certificazione su raccomandazioni che ho già compilato in automatico importando le raccomandazioni tutti i dati che mi servono e posso quindi procedere con la stampa con l'esportazione dell' xml esteso eccetera quindi in breve queste sono le due modalità di utilizzo degli interventi migliorativi per uscire scusate non vedo dalla modalità avanzata basta cliccare nuovamente su togliere il flag quindi togliere il flag da modalità avanzata e ritornerò avere la possibilità di fare la scelta se utilizzare la modalità classica o la modalità avanzata bene io avrei concluso qui la la mia presentazione adesso se vedo che vogliamo magari rispondere ad un paio di domande e poi ci salutiamo sperando di essere stata il più esaustiva possibile allora vediamo un attimo vediamo vediamo allora la prima domanda ok qui c'è una domanda che ci chiede chiede se è sempre obbligatorio inserire interventi migliorativi allora sì è sempre obbligatorio inserire anche solo un intervento migliorativo quindi un intervento migliorativo almeno va inserito anche nel caso di edifici con altissime prestazioni e anche in caso di nuove costruzioni quindi almeno un intervento migliorativo va sempre analizzato o in modalità classica o in modalità avanzata come preferite voi vi ricordo che per il calcolo con il motore Cened quindi per gli attestati in regione Lombardia bisogna utilizzare esclusivamente la modalità avanzata poi vediamo un'altra domanda ok un'altra domanda che chiede se è possibile non vedo bene se è possibile definire un intervento di sostituzione sull'impianto in realtà su un edificio privo di impianto allora no diciamo che se l'edificio è privo di impianto il certificatore deve creare almeno analizzare almeno un intervento migliorativo che sia che sia però relativo all'involucro e non all'impianto e dovrà poi dichiarare che l'impianto è assente questo perché perché in realtà come vedete nelle modalità predefinite l'intervento è quello di sostituzione dell'impianto non nuova installazione quindi se l'edificio è privo di impianto si deve fare un intervento migliorativo ma non si può fare un intervento migliorativo che riguardi l'impianto ma bensì che riguardi l'involucro allora l'ultima domanda oh ecco questa questa perché molte volte succede insomma riscontriamo riscontriamo queste tipologie di problemi allora un ascoltatore chiede perché anche se ha inserito un intervento per esempio di coibentazione delle pareti esterne la la classe energetica non cambia e non cambia neanche l'EP allora questo è un un errore diciamo tra virgolette che riscontriamo frequentemente quando si va a fare un intervento per esempio di coibentazione delle strutture come di sostituzione degli impianti o come anche di sostituzione del generatore è bene sempre ricordarsi che la parete la finestra il generatore nuovo non va mai inserito nella certificazione di partenza nella certificazione originale anche se eventualmente non viene utilizzato ma come vi ho fatto vedere prima va negli interventi migliorativi importata la parete così come è nel file di partenza e negli interventi migliorativi va modificata quindi mai creare la stratigrafia già con il tappotto con lo strato di isolante la nuova finestra o il nuovo generatore nel file di partenza anche se in realtà poi noi non lo utilizziamo ma rimane lì quindi non va mai creato prima ma va sempre creato nel campo degli interventi migliorativi e questo purtroppo molte volte insomma lo riscontriamo e quindi ecco ho scelto proprio questa domanda perché mi piaceva insomma specificare questa cosa che in realtà è un errore molto banale che si può risolvere si può risolvere in fretta bene bene allora io credo che ormai ci siamo anche con le tempistiche quindi vi ricordo che se avete credo necessità potete rivedere richiedere la la registrazione del webinar e niente io spero di essere stata il più chiara possibile la più esastiva possibile e per qualsiasi cosa ovviamente potete contattare noi tecnici dell'assistenza e utilizzate Diana perché il bot perché mi può essere utile è molto veloce come come aiuto e niente io vi saluto e vi auguro un buon proseguimento di pomeriggio di serata grazie